E io devo seguire lei? Ci posso fare? E' bravo, sono da là Noi arriviamo da lì, le strade sono due, secondo lei dove dobbiamo andare? Giusto, dobbiamo andare giù da là Potrebbe iscriversi una polizia, come volete? E' vero, no mi ci mangio un poliziotto Io no E' vabbè Siamo arrivati? Siamo arrivati? No, non è qua Ah ecco, forse, forse Ma se c'è scritto toalette Eh ma sa, a me è scappata da noi in bagno Ce la facciamo per favore Oh non posso sparare Eh che aspetta Ah ah ah, forse ci sono Guarda, guarda, guarda Ci sono, ci sono Ci sono Sta pozzino Eh ci sono i cannelli stanti Ah 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 Non c'è mai più Scala E poi giro destra E poi ci siamo Eh facciamo Venga Secondo lei perché abbiamo aperto sta clinica? Il manga Io esaminio un po' in giro Io non mi muovo Passo Non è possibile Ah, un videoregistratore? Tosto Un videoregistratore Anche acceso Bene, bene, bene Ci vediamo da stella Sì Vediamo cosa c'è Magari Può essere qualcosa di utile Vediamo Non sopportato C'è scritto Niente Domani vota la giustificazione Aiuto 8 euro C'è questo Niente L'hai sopportato Che succede? E non lo supporta Eh mamma mia Ci ha facciato a sopportare Inizia a non supportare più la situazione Lo fatto io Riproviamo Sempre più non supportato E non lo sopporta Ma lei l'ha congiolato se c'è la cassetta La cassetta c'è E non funziona? E non guarderemo Ma come no? Dunque me lo racconti Dato che ha detto che un filmato è importante Allora Semplici Allora Classe Prima la scuola C'è la panoramica della scuola Immaginate Gente che fa niente a destra Sinistra Più Ma Fa Dice Canta Oye Maria C'è la panoramica Però C'hanno davvero Gente in classe C'hanno una voglia Poi Quantino che c'è Sto tizio che si alza Ci fa La professoressa Prof io dove andrei in bagno La professoressa ci fa No perché tu non puoi uscire Perché stavo spiegando Parlano tutti con la stessa cadenza E allora ci fa Cos'è? Ah ci fa E mi sai dire cosa stavo spiegando Lui dice Sì Stavo spiegando Freud Stavo spiegando Hess Tutto a un certo punto Si sente una voce stessa E chi è? E chi è? Sponda una ragazza Che guarda sto ragazzo E chi è fa Solo te E ragazza ci fa Come sente Io sono me Tu non te e me Te De pe 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 De momentan Este mi persoana No sente Speream Mi odgui Să nu e che E Speriam Speriam Devo darti ragione, perché effettivamente descrivere un'immagine è difficile, in più da lei proprio capirla Ehi, caperai! Sei da lei, sei passata E' un po' come un altro uno di quella scuola Bravo! Quello l'ho capito, non fanno... Ok, e allora la storia continua, tanto ci ha racconto, tanto abbia tempo E lei va lì e ci fa Sì, io... tu chi sei? Io sono te E' fin l'è Perfetto che prendo appunti, perché vi faccio un attimo la mappa E lui fa, come sei me? Ma io sono io E fa, sono il tuo S Cos'è l'S? E' l'intimo noscio Non lo che abbiamo dentro Io, ad esempio, ho due S S lunga L'altro S si chiama S Un favore, questi particolari, eh? Li tengono nelle montagne? Eh sì Date una mano ai tecnici Allora, ci diamo una mano ai tecnici? Tutti e due, vogliamo che lo sappia far funzionare Oh! Silenzio! Cerato! Vediamo se entra in classe con la giustizia Il segnale è assente, ma potrebbe... Entrare a ritardo Sì sì perché si aspetta la su iscrizione qua Oh no… Sì, però devo dare grazie